Salve, sono Christopher Ferrara e benvenuti a Prospettive su Fatima, una trasmissione di Fatima TV nella quale analizziamo la Chiesa Cattolica di oggi ed il suo rapporto con il mondo moderno, specialmente alla luce del messaggio di Fatima. Nella puntata odierna ho invitato per l'occasione il mio amico e collega John Bennari, direttore di Catholic Family News, a quale do il benvenuto. Grazie a te Chris, credo che tu voglia toglierti qualche sassolino per così dire in questa prospettiva su Fatima, una puntata alla quale tenevi molto partecipare, giusto? Beh sì, decisamente, come ho detto in un'altra occasione, quando la Chiesa si riunisce in un sinodo per insegnare qualcosa in merito alla famiglia, abbiamo il diritto di aspettarci qualcosa di buono. Davvero? Sì, ne avremo il diritto in teoria, ma purtroppo ultimamente non accade più così spesso. Il prossimo sinodo di ottobre 2015 può essere davvero pericoloso perché sul tavolo vi sono questioni di importanza fondamentale. Nei documenti preparatori al sinodo hanno rinunciato alla certezza della tradizione cattolica per raggiungere le proprie conclusioni. Qualche mese fa, quando hanno pubblicato i cosiddetti lineamenta, cioè le linee guida del sinodo 2015, scusate, e questo documento chiede ai pastori della Chiesa, cito testualmente, di evitare in relazione al problema dei cattolici che divorziano e si risposano e la loro possibilità di accedere alla comunione sacramentale. Che poi è un problema già risolto da tempo. Sì, sì, infatti. Ma ovviamente al sinodo diventa un problema da risolvere. Già, all'improvviso torna ad essere un problema da risolvere. Ecco, dicevo, questo documento chiede ai pastori della Chiesa di evitare nelle loro risposte una formulazione di una pastorale meramente applicativa della dottrina. Ah, bene, perfetto. Quindi un'applicazione pastorale che vada oltre la dottrina. Insomma, stanno cercando di ribaltare la dottrina cattolica provando a farla franca attraverso la pastorale. Ricordiamoci le parole che avevano invece usato al sinodo 2014. O no, non cambieremo mai la dottrina. Stiamo solo parlando di applicare la dottrina. Già, la dottrina verrà applicata concretamente rispetto alle circostanze reali in cui vivono le persone, ma essa verrà difesa comunque, non preoccupatevi. Ecco, hanno provato a mantenere questa linea durante la prima sessione del sinodo e hanno fallito. La loro apertura nei confronti della comunione per gli adulteri pubblici e la loro attenta valutazione dell'orientamento omosessuale è stata bocciata dalla stragrande maggioranza del sinodo, che anzi si è sentito oltraggiato per i contenuti di questo documento, che era stato approvato da Francesco e pubblicato ufficialmente prima ancora che il sinodo potesse esaminarlo. Hanno fallito l'anno scorso e la stampa internazionale disse che a perdere era stato Francesco una vera sconfitta per Papa Bergoglio, avevano detto. Ma il Papa non ha mollato e con il nuovo Instrumentum Laboris, pubblicato qualche mese fa, sta praticamente dicendo ai vescovi di non applicare la dottrina. Se all'inizio si erano limitati a dire applicheremo la dottrina nelle circostanze concrete, venendo battuti su tutta la linea, adesso i lineamenta, le linee guida per il prossimo sinodo, cercano proprio di sbarazzarsene. Sì appunto, tanto a loro che importa della dottrina. Per non parlare del libro del Cardinale Casper, che ho letto ma che ora non ho con me, nel quale egli affronta la questione dell'adulterio ed arriva a dire, sentito un po', non possiamo risolverla soltanto sulla base delle parole di Gesù. No, infatti, meglio seguire quelli di Casper. Già, Casper appartiene al gruppo dei cosiddetti teologi critici, secondo cui non possiamo davvero sapere se Gesù ha detto una cosa del genere, né se i miracoli sono veri. Non sappiamo se siano stati davvero Matteo, Marco, Luca e Giovanni a scrivere i loro Vangeli, ovviamente solo spazzature derivanti dal protestantesimo liberale, ma allora che ci fanno tali parole in bocca ad un Cardinale di Santa Romana Chiesa? Quel che dice Casper è semplicemente falso, dobbiamo seguire le parole di Gesù, né più né meno. Come ho detto prima, alcune persone cercano di sbarazzarsi delle fondamenta dottrinali e soprattutto scritturali della nostra fede. Già, ma se fai così, che cosa resta? Il movimento della storia, ecco cosa. E a questo proposito vi leggo cosa ha scritto questo importante padre del Sinodo, rimasto anonimo. È rimasto anonimo perché non gli è stato permesso di inserire il proprio nome. È stato fatto tutto in un regime di semisecretezza. Puoi leggere ciò che è stato scritto, ma non sai chi lo ha scritto. Beh, c'è questo Cardinale, a quanto sembra. È un Cardinale secondo il quale esiste un movimento teologico condiviso da tutti i teologi, in un pezzo proprio, aggiungo io, secondo quale il nulla è statico e l'umanità marcia nella storia, così come la religione cristiana che sarebbe storia e non ideologia. Un'affermazione assurda. Secondo questa persona, il contesto attuale della famiglia è diverso da quello di 30 anni fa, all'epoca della Familiaris Consorzio di Giovanni Paolo II. Oh, è ridicolo. Ma senti ancora che dice. Senza la storia non sapremo mai dove stiamo andando e se negassimo questo fatto torniamo indietro di 2000 anni. Addirittura. Ma non avevamo detto 30 anni indietro? Già. Beh, è quasi incommentabile. Stanno cercando di dissezionare il problema della famiglia. I modernisti adorano la parola dissezionare. Sì, ecco, facciamolo anche noi e proviamo a dissezionare questa loro affermazione, chiarendo per prima cosa che la dottrina non è né storia né ideologia. Non è una contraddizione in termini, ma un fatto oggettivo. Esatto. È semplicemente verità. Una verità oggettiva. Esatto. La dottrina è verità, è stata rivelata da Dio e ci è stata tramandata dagli apostoli. Ciò che la Chiesa ha sempre definito il deposito della fede. E se arrivasse qualcuno nel corso della storia a contestare tale verità, e sappiamo che la Chiesa adorerà per sempre, essa rimarrebbe sempre e comunque verità. Certamente abbiamo a nostra disposizione la verità divina rivelata, e se è pur vero che l'umanità marcia attraverso la storia, lo fa però assieme al deposito della fede, che è immutabile per definizione. Affermare che l'interpretazione della dottrina, o persino la dottrina stessa, possano cambiare in qualche maniera nel corso della storia, è una delle eresie più gravi del modernismo. E tu ne hai parlato a fondo, John. Già, la tesi principale dei modernisti è l'evoluzione del dogma, ma oggi ci dicono «No, non è vero, noi accettiamo il dogma, semplicemente lo ignoriamo». Basta cambiare la pratica della fede per poterne ignorare i dogmi. Beh, ci provano a farlo. Ma non ci riescono, ovviamente. Ricordatevi il falimento di quando dissero «applichiamo la dottrina». Ora però sono arrivati così in là, da ignorare apertamente la dottrina, tanto è inutile. Che ci facciamo?». E questo, malgrado la stragrande maggioranza dei padri sinodali, abbiano respinto questa tesi modernista e applicato la dottrina come sempre. Insomma, nulla è cambiato, signori. Ci dispiace per voi. Questo gli ha rovinato la festa. Esatto. Questi eretici modernisti, pur di sostenere le proprie tesi, arrivano a distruggere le fondamenta dottrinali del sinodo, trasformandolo in una specie di incoerente ricerca di un adattamento pastorale non meglio specificato. Beh, è chiaro. I modernisti si muovono seguendo la teoria secondo cui ogni cosa deve basarsi sul sentimento prevalente dell'epoca, sullo zeitgeist, lo spirito del tempo. Fosse per loro la dottrina e la pratica andrebbero basate sulle venenose sabbie mobili del sentimento, contro le quali semmai la fede cattolica è l'unico strumento in grado di salvarci, tenendoci a riparo da esse e mettendoci al sicuro lungo la rotta tracciata dalla verità oggettiva di Dio. Già, ricordiamoci le parole dell'Antico Testamento sul cuore. Il cuore è ingannevole, può tradirci. Non possiamo lasciarci guidare dal cuore, cioè dal sentimento, bensì da una coscienza ben informata, grazie agli insegnamenti della Chiesa, che contribuiscono appunto alla formazione di tale coscienza. A proposito di questo sinodo senza fondamenta, è stato proprio Francesco ad aver detto che il motivo per cui aveva deciso di organizzare questo sinodo del destino in modo quasi segreto e dai contenuti rigorosamente anonimi era legato, cito testualmente, alla necessità di creare uno spazio protetto. Scusa, protetto da chi? Da noi? Già, da cosa? Forse dallo sguardo indiscreto di quei fedeli che stanno subodorando cosa sta per accadere? Forse dalle critiche di tutti quei fedeli laici, sacerdoti, vescovi e cardinali cattolici di tutto il mondo che vivono ancora nell'ortodossia e che sono preoccupati per quel che stanno facendo? È questo il motivo di uno spazio protetto di cui ha parlato Papa Francesco? Mio Dio! Oh, teniamo lo segreto e che ci pensi lo Spirito Santo. E pensare che persino il governo Obama promette più trasparenza. Ma anche Papa Francesco ce l'aveva promesso. Non aveva detto più trasparenza in Vaticano? Sì, me lo ricordo bene. Quello di Francesco non doveva essere il pontificato della speranza e del cambiamento? Pensiamo a tutte le lodi sperticate rivolte a Francesco da un sicofante come Casper nel suo libro Papa Francesco, la rivoluzione della tenerezza e dell'amore. Già! Che poi, titolo più stupido, non potevano trovarlo. Assolutamente. Ricordiamo ciò che disse Papa Pio X sui modernisti. Si esaltano continuamente elogiandosi l'uno all'altro, con le proprie azioni e le proprie teorie. Ecco, la reciproca ammirazione manifestata pubblicamente da Walter Casper e Papa Francesco rappresenta proprio questo. Già. Ed è francamente imbarazzante. Beh, possiamo solo aspettare. Ciò che accadrà al sinodo dove noi di Fatima TV ve lo garantisco saremo in prima linea. Con questo si conclude la puntata odierna di Prospettive su Fatima. Grazie e arrivederci.